Le opzioni, gli scorpori, le operazioni strategiche, le massimizzazioni, le riorganizzazioni, le cifre ne lasciamo volentieri da parte e roba più da conference call che da servizio di TG. Qui si vola più basso e più basso c'è che la nostra rete, la 7, ora è ufficialmente sul mercato insieme a MTV o da sola, spacchettata, come si dice. Lo dicono in tanti, lo diciamo anche noi, intendiamoci per essere usata è usata, ma in questo campo, come si sa, l'uso funziona, anzi più si usa più la si guarda e meglio è. Nell'ultimo anno siamo stati usati, stropicciati al punto di essere premiati da ascolti talora perfino imbarazzanti. Antenne, ripetitori, facce, chiacchiere, qualche ideuzza, quella in un panorama generale non proprio effervescente, tutto dentro tasti consolidati, il 7 e l'8 compresi. Come ha detto il presidente Telecom, Bernabè, con un'identità ormai consolidata da garantire. Quanto la corsa possa rivelarsi pazza, lo si vedrà più che delle trattative, ora il momento è quello delle parole. Non sappiamo quanto tattiche pronunciate dagli interessati, o meglio a giudicare dalle dichiarazioni rese, presunti tali, indicati dalla stampa come compratori prossimi venturi. Per un della valle che spegne ogni fermento commerciale, non siamo interessati, fa sapere, c'è un De Benedetti che dice l'anno scorso sì, ma ora dovrebbero pregarmi per farlo. E poi anche Urbano Cairo, che qualcuno immagina poter passare da concessionario pubblicitario della nostra rete a suo proprietario. E c'è chi si spinge a fare un altro nome che comincia per D, quello di Aurelio De Laurentiis, che in dote potrebbe portare diritti cinematografici, studi e anche un po' di calcio. Anche lui come Cairo e della valle. Noi oltre a darvi notizia della nostra messa in vendita, senza far finta di nulla, poco altro possiamo al momento fare, perché il nostro ruolo, per una volta, più che quello di concorrente, sarà quello di trofeo da vincere. Si spera per non limitarci solo a partecipare.